Mentre la fondazione diventa sempre più importante nella vita di Emma, la crisi con Agostino si fa più profonda. Emma quindi si avvicina di più a Giorgio, che non ha mai smesso di amarla. Agostino, nel frattempo, si ritira a vivere in accademia, tentando di dimenticare i problemi con l'amore. Sarà un malore della figlia Nicole la corsa al pronto soccorso a riavvicinare i due coniugi. Se il video vi è piaciuto mettete like e iscrivetevi. Se non volete perdere nemmeno un video ricordatevi di attivare le notifiche tramite l'apposita campanella.